Ciao a tutti, sono Sofia Cantore, attaccante, ho 22 anni e due anni fa ho giocato nel Verona, mentre l'anno scorso nel Florenza San Gimignano. In due anni ho fatto circa 15 gol e spero di farne altrettanti quest'anno. Ma per il momento mi sto trovando molto bene, è un ambiente molto sereno e si lavora bene, si respira calcio e non vedo l'ora di iniziare il campionato perché secondo me è proprio una bella squadra e possiamo fare bene. Ma molte di loro le conoscevo già e quindi mi sto trovando molto bene, sono tutte molto simpatiche e mi hanno accolto benissimo. Anche il mister mi ha accolto molto bene, è molto simpatico e in campo è molto bravo, ci fa lavorare tanto, però allo stesso tempo ci fa anche divertire e secondo me questo è molto importante. Diciamo che alcune cose sì, magari le avevo già fatte, però altre sono nuove perché comunque lui ha un modo suo di giocare e vuole proprio improntare tutti gli allenamenti su quello e quindi ogni allenamento appunto è fatto per imparare bene a giocare col suo modulo e ha tutti i movimenti necessari. Sono molto contenta anche per questo perché essendo attaccante comunque è una cosa per me molto bella e fondamentale, quindi spero di imparare tanto da lui quest'anno. Il mio obiettivo di squadra penso sia quello di cercare di giocare tutte le partite per vincere e di arrivare comunque nell'alto della classifica come hanno fatto l'anno scorso le mie compagne e cercare di dare una mano in questo a loro, mentre il mio obiettivo personale è quello di segnare il più gol possibile da attaccante e in generale anche quello di crescere e continuare a fare bene. Sinceramente sin da subito ero molto soddisfatta per questo contatto perché comunque è una squadra che ho sempre ammirato perché è un progetto solido e ha sempre fatto bene negli anni, anzi negli anni ha fatto sempre meglio e quindi da subito mi ha attirato il progetto e ero molto contenta e entusiasta e poi niente, da lì alla firma ci è voluto poco perché comunque ero subito soddisfatta dalle parole del direttore, del mister e quindi ho deciso subito di affrontare questa nuova avventura. Faccio un saluto a tutti i tifosi nero-verdi e spero che quest'anno ci si possa incontrare allo stadio, covid permettendo. Forza Sasol, un saluto a tutti!